...e l'unità delle sue forme. Mi chiamo Kimberly Choma e vengo dal Canada. Sono qui per lavorare con Bikini Destination a South Africa. È bellissimo ed incredibile allo stesso tempo. Le spiagge, le barche, i yacht sono dappertutto. Non ho mai visto niente di simile. Girare in Francia è stata un'esperienza magnifica, molto eccitante. Quei tutto sembra calmo, quasi suffuso. Un'atmosfera molto sofisticata, direi. Ieri abbiamo girato alcune scene in spiaggia ed è stata un'esperienza totale. C'erano dei negozietti molto carini e c'era gente seduta nei bar a bere o a ballare. Mi è sembrata un'atmosfera più messicana che europea. Mi sono divertita molto a posare lì. È stato diverso. Non posso dire di aver avuto molta privacy.